Consigliere, a Milano tra due giorni inizia la settimana della moda ma non si trova un taxi e oggi ci sono stati anche degli scontri a Roma con le forze dell'ordine. Il suo parere su questa situazione? Io penso che la vicenda sia una vicenda emblematica che dimostra la tensione sociale latente che c'è in questo paese. Mentre c'è una disoccupazione crescente, imprese che chiudono, una povertà che aumenta sempre di più, c'è il principale partito di maggioranza che esprime che il governo impegnato a litigare non si sa bene su cosa per dividersi per poltrone e non poltrone. Un ex presidente del Consiglio che ha detto che se avesse perso il referendum se ne sarebbe ritirato la politica, invece è ancora lì. In questo clima di dramma sociale addirittura prende un aereo e va in California, se ne scappa lontano. In tutto questo ci sono situazioni di povertà crescente perché la protesta dei tassisti è una protesta dal mio punto di vista condivisibile. Cioè il tutto nasce per un emendamento presentato dal PD all'interno del 1000 proroghe che va a liberalizzare un servizio e va a favorire una multinazionale. Questa Uber, multinazionale statunitense, una deregulation che penalizza chi? Penalizza chi ha fatto investimenti per avere una licenza. Cioè i tassisti hanno pagato, fatto mutui, prestiti, si sono indebitati per appenersi la licenza per il taxi, per comprarsi un taxi, ed oggi gli viene detto guarda che quello che tu hai speso non serve più a nulla perché da oggi in poi chiunque può fare il tassista. E non è un esercizio commerciale dove uno se lo vende a un avviamento, uno al limite vende la macchina, una macchina usata. Una situazione paradossale che dimostra la grave crisi che c'è in questo paese. Tornare al voto il prima possibile con un governo nuovo, un governo forte e con Matteo Salvini premio.